Ecco, siamo pronti o meglio, siamo dietro alle quinte del palcoscenico che tra un po' ospiterà questa grande serata che festeggia i 30 anni del concorso Voci Nuove di Castrocaro Terme. Come vedete si stanno preparando proprio le sei voci che stasera debuttano davanti al grande pubblico di Re 1. Irene Fargo, ecco ce l'ho qui alle mie spalle, prontissima Irene. Buonasera. Tutto bene? Sì, tutto tranquillo. Bene, devo dire mi sorprende la calma con la quale stanno affrontando, forse non tutti, andiamo a vedere Paola Dattis, dove è Paola? Scusa agli acconciatori, Paola tutto bene? Benissimo. E sono due, dicevo una calma forse apparente, Alfredo Lama è uno dei due protagonisti maschili, abbiamo quattro ragazze e due protagonisti maschili. Alfredo sta ancora finendo tracce di mangiare, vedo nel tensione. Sì, ho mangiato tanto. Ecco, una volta lo spettacolo perché non si mangiasse prima della cosa, sono cambiati, sono cambiati i tempi. Poi abbiamo Barbara Vigna, Barbara Vigna, tu in forma? Ciao, sono Barbara Vigna e vengo da Turino a 17 anni. Ecco, sembrava quasi che avessi chiesto i documenti, non è una multa, tutto bene. Antonietta Bucigrassi, che noi abbiamo soprannunato, mentre chiediamo scusa a chi le sta ancora ritoccando il trucco, la Romy Schneider di Castrocaroterme. Caroterme, come va Barbara? Bene. Bene, questa invece sento un po' di emozione, ma dovrebbe essere normale. E Valerio Spazzoli, Valerio Spazzoli, eccolo qua. In gran forma, credo? Ma speriamo. Ecco, si denuncia che gioca un po' in casa, Valerio, casualmente. Abito a 5 chilometri da qui. Ma santo cielo, ma allora è fatta comunque in bocca al lupo a tutti, è un gruppo veramente molto affiatato, oltre che essere bravissimi. Però non anticipiamo niente, ci portiamo dall'altra parte, a voi auguriamo un buon divertimento, a voi in bocca al lupo e ci vediamo tra poco. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti. Benvenuti, non sprechiamoli tutti adesso gli applausi perché ce ne sarà veramente da destinare tanti alle 6 voci nuove che stasera festeggiano insieme a voi, insieme a noi, insieme agli amici a casa i 30 anni del concorso Voci Nuove di Castrocaroterme. 30 anni sono tanti, sono tanti per una manifestazione che indubbiamente è diventata direi mitica, che ogni anno e ogni edizione ha proposto voci che poi sono diventati dei big, dei big non solo in campo nazionale ma anche internazionale. Gli ultimi due cantanti in gara, è il momento di Antonietta Bucci Grossi, una 17enne che arriva da Sulmone in provincia dell'Aquila. Che dire di Antonietta? Un sacco di cose. Studia danza, pratica lo sci, il pattinaggio artistico, studia musica, parla correttamente il tedesco e quasi correttamente l'inglese. Veste la moda di Sergio Milioni, il titolo della canzone, e c'è un motivo in più. A chiudere la gara dei sei finalisti di Castrocarotatotto, un personaggio invece davvero particolare. Un ragazzo sicuramente un po' timido, ma che quando canta tira fuori tutta la grinta che ha dentro e soprattutto tutta la sua voglia di Ritman Blues. Il suo nome è Valerio Spazzoli, un 22enne di Forlì, ci canta Rido e veste la moda di Iaio Migliaccio. Antonietta Bucci Grossi, comunque Antonietta decisamente emozionata, anche perché dovete sapere che il papà lavora in Germania, fa il camionista in Germania, e pare che comunque Rai 1 arrivi anche fino là, in quale città? A Monaco. A Monaco. Valerio Spazzoli! Valerio Spazzoli! Che indubbiamente ogni volta dà tutto di sé. Adesso è tutto a posto, mi sembra che sia ritornato. Chi vuoi salutare? Ma innanzitutto la Barilla, grazie. Ma bene, e ne ha bisogno per tirarsi su. Valerio Spazzoli! Ciao e grazie. Allora, ritiro, ritiro la busta con il nome dei vincitori, ma prima velocemente vi presento la giuria. Allora, sono Antonio Giovannini dell'Agenzia ANSA, Pietro Mondini di Paese Sera, Ugo Ravaioli, il resto del Carlino, poi abbiamo presidente della giuria, gradito ospite, Gigliola Cinquetti, Gerardo Gentilli di Mensile Musica Spettacolo Tutto, Bruno Battistini, direttore delle Terme di Castrocaro, e l'esperto di musica per eccellenza della giuria, il maestro Virgilio Braconi. Io in velocità salgo anche le scale, cambio postazione e consegno la busta con i nomi dei due vincitori della trentesima edizione del Festival di Castrocaro Terme a Claudio. Eccola qui. Mauro, intanto grazie, ci rivediamo per il finale, momento particolarmente emozionante, credo un ex equo per quanto riguarda i due vincitori di stasera, che sono, lo dico in ordine alfabetico, per ovviamente rispettare il fatto dell'ex equo. Il primo brano interpretato dal primo vincitore, c'è un motivo in più, Antonietta Bucci Grossi ed ex equo. Mi sembra giusto ricordarlo, con il brano Rido, Valerio Spazzoli. Un meritatissimo applauso per Antonietta Bucci Grossi e Valerio Spazzoli, complimenti. Ora è al mio fianco il dottore Raffaele Schiavo, amministratore delegato delle Terme di Castrocaro, che ringraziamo per l'ospitalità e che salutiamo, e perché insieme a lui si possa consegnare questo trofeo offerto appunto dalle Terme di Castrocaro. Trentesima edizione a Antonietta Bucci Grossi e a Valerio Spazzoli, l'augurio di tanta luminosissima carriera come tutti quelli che abbiamo ricordato. Grazie qui dal padiglione delle feste di Castrocaro Terme, da Claudio Lippi, l'augurio più sincero di buona prosecuzione. Buonanotte e buona fortuna alle voci nuove. Ciao! Buonanotte!